I grassi? Sono un qualcosa e nessuna danno vorrebbe addosso. I grassi, sempre nell'occhio del ciclone. Tutti li temono e vogliono privarsi nel più possibile. Ma davvero sono così pericolosi? No, non ne sono così convinta. Sentiamo Bianca, la nostra esperta in nutrizione, e vediamo cosa ci racconta. Parliamo di grassi. Ne esistono due tipi principali, grassi saturi e quelli insaturi. I grassi saturi, solidi a temperatura ambiente, di solito sono di origine animale. La panna, il burro, lardo, lo strutto. Sono molto importanti perché sono una fonte di energia per il nostro organismo. Ma se noi abbiamo uno stile di vita poco attivo, facilmente vengono trasformati in grasso di deposito e possono alterare la fluidità del nostro sangue. I grassi insaturi, invece, sono liquidi a temperatura ambiente ed è più frequente ritrovarli negli oli di origine vegetale, come l'olio extravergine d'oliva, o nel grasso dei pesci, come il salmone, le acciughe. Sono molto importanti per il nostro corpo perché costituiscono le membrane cellulari e contribuiscono alla fluidità del sangue. In una dieta equilibrata i grassi dovrebbero rappresentare circa il 30% dell'energia che consumiamo, cioè più o meno 70 grammi di grasso. Questo non vuol dire però 70 grammi di condimento, perché, come abbiamo già detto prima, i grassi sono naturalmente presenti in molti dei cibi che noi mangiamo. Bene, direi che il concetto è molto più chiaro. E Marco, il nostro chef, chissà cosa ne dice. Come ci muoviamo in cucina con i grassi? Sentiamo un po'. Grassi possono diventare non così nocivi, ma è opportuno rispettare loro nelle temperature e nelle proporzioni. Prendiamo ad esempio grassi per fritture, come olio di oliva o oli di semi. Hanno un punto di fumo molto alto. Il punto di fumo è quel limite della temperatura che, se è oltrepassata, rende i grassi nocivi. Per conferire maggior gusto, possiamo utilizzare grassi come l'olio extravergine o il burro, però hanno un punto di fumo molto basso. Per rendere questi non nocivi, è opportuno tenerli sotto controllo tramite un termometro. Visto che non è tutta colpa dei grassi, chissà cosa ne dice Pieri, il nostro personal trainer. Magari ci mostra un esercizio per tenerli sotto controllo. Per utilizzare i lipidi come substrato energetico, è fondamentale che ci sia sempre una buona quantità di ossigeno e una buona quantità di carboidrati. Infatti si dice che i lipidi si ossidano su un tappeto di zuccheri. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sarà possibile per noi eseguire degli esercizi con un'intensità medio-bassa, protratti nel tempo e migliorare la qualità della massa magra. Affinché questo avvenga, ovviamente, le ripetizioni devono essere portate a lungo nel tempo, ma il peso deve essere medio-basso, altrimenti si utilizzerebbero più i carboidrati che i lipidi. L'esercizio che vi propongo mette in moto tutta la catena estensoria. Quindi lavoriamo con i quadricipiti, con i glutei, con i polpacci. È molto importante la respirazione. Andremo ad espirare quando ritorniamo in posizione iniziale. Inspiriamo ed espiriamo. Tutto il peso qua si porta sul quadricipite. Nella fase di stacco interviene il gluteo fino a quando non si ritorna in posizione iniziale. Ora mi sento molto più sollevata. Questa sera, quasi quasi, esco a cena con le amiche.